bentornati con le notizie di video news primato di oltre sei ore e trenta di volo raggiunto da due hh 101 impegnati nella long range extended gli equipaggi de nonno stormo durante una missione operativa notturna hanno stabilito il nuovo record di permanenza in volo con l'elicottero hh 101 grazie alla sua peculiare capacità di rifornimento in volo vediamo il servizio dopo un'importante fase addestrativa due equipaggi del ventunesimo gruppo volo tiger del nonno stormo hanno volato con due elicotteri hh 101 mission and asset ossia con capacità avanzate raggiungendo in volo tattico l'isola trapanese al sud del mediterraneo dove è stata simulata l'inserzione le estrazioni di incursori del 17esimo stormo per poi rientrare sulla base aerea casertana senza effettuare alcuno scalo intermedio l'obiettivo è conseguito grazie al supporto di un belivolo kc 130 j della 46esima brigata aerea di pisa che ha consentito il rifornimento in volo dei due assetti lungo la rutta operazione particolarmente complessa specie quando effettuata in piena notte dove si può operare solo con l'ausilio di strumentazione di bordo e visori notturni a bordo di uno dei due elicotteri anche il comandante del nonno stormo colonnello pilota salvatore florio che assistito in prima persona alla complessa attività addestrativa al di là del record raggiunto dai nostri equipaggi con la missione più lunga mai volata dalla hh 101 ovviamente la demo extended range rappresenta per il nonno stormo una delle milestone per il raggiungimento della full operational capability e sicuramente in sinergia con gli altri assetti dell'aeronautica militare non può che essere un primo passo nell'impiego di questo velivolo a distanze veramente notevoli e in tempi brevissimi dalla madrepatria l'aeronautica militare è l'unica in italia e tra le pochissime forze aeree al mondo ad avere la capacità di rifornire in volo un assetto ad alla rotante capacità che consente ad equipaggi del nonno stormo e agli incursori del 17esimo stormo che operano sotto il comando della prima brigata aereo per azioni speciali di aumentare la loro proiettabilità rapida sul lunga distanza uno degli aspetti peculiari delle special operations l'evento svoltosi sotto legge da del comando interforze per le operazioni delle forze speciali della difesa che lo ha seguito da remoto grazie alle immagini in tempo reale di un velivolo a pilotaggio remoto mq9 del 32esimo stormo di avendola è stato coordinato dal comando delle operazioni aereo spaziali di poggio renatico nella base di aliasalem in kuwait è arrivato il task group devil un cambio quello avvenuto nei giorni scorsi che segna il passaggio di testimone tra due realtà operative dell'aeronautica militare i due gruppi che si sono avvicendati appartengono al sesto stormo di ghedi arrivato in kuwait con i tornado e a quelli degli stormi euro fighter dell'aeronautica militare che sono rientrati nelle basi italiane il task group typhoon durante il rischieramento ha svolto operazioni di sorveglianza e ricognizione il personale navigante specialista e di supporto che arrivava da diversi stormi dell'aeronautica militare ha consentito il raggiungimento nel dicembre 2023 del traguardo di 8.000 ore di volo in questo teatro operativo video news termina qui l'appuntamento è come sempre alla prossima settimana buon weekend a presto